Continua l'emergenza a Porto Empedocle, ieri infatti si è riproposta la frana del terreno in via Lincoln come già avvenuto anno addietro nel Londano 2009 e nel 2012 provocando parecchia paura tra la gente. La forte pioggia avvenuta nella stagione in questi giorni hanno provocato lo smottamento del costone roccioso che sovrasta la zona limitrofa allo scario ferroviario Empedoclino. Sono prontamente intervenuti le forze dell'ordine, i tecnici della protezione civile, i vigili del fuoco che hanno provveduto a far sgombrare alcune famiglie del palazzo che è stato interessato allo smottamento franoso. Nelle zone vigia anche la sede della polizia municipale, da poco distante dal luogo. I tecnici del comune sono anche oggi al lavoro per monitorare la zona e dare il massimo soccorso del caso. È intervenuto anche il sindaco Ido Carmina che ha mobilitato immediatamente la prefettura, l'ingegnere Costa della protezione civile agrigentina e il presidente della regione che è anche commissario contro il dissesto idrogeologico. Direi che il peso è dall'emergenza infinite. Ieri improvvisamente, c'era stato un avvisaglio venti giorni fa, improvvisamente c'è stato un grosso boato e precipitato a terra una massa enorme franosa di svariate tonnellate di peso. Ha divelto l'ingresso di alcuni garage, precipitando, quasi entrando quasi nel primo piano delle case. Poiché oggi dava pioggia, io ho immediatamente disposto lo sgombero per dieci famiglie, per altre famiglie che stanno sullo stesso costone ma che per avviso della protezione civile dell'ufficio tecnico non correvano queste famiglie a un rischio immediato tal quale quelli della palazzina E. Ho disposto altre misure a protezione delle persone. So che questa notte c'è stata la salvaguardia del sito da parte anche della Polizia. Ringrazio tutte le forze dell'ordine intervenuti, i vigili del fuoco, la Polizia, la Guardia di Finanza, i grabinei sono venuti veramente tutti, la protezione civile. Stiamo cercando di porre in essere tutto quanto nelle nostre possibilità. Abbiamo immediatamente scritto al Presidente della regione Sicilia, all'assessorato territorio ambiente, alla protezione civile e anche al Presidente in qualità di commissario per il dissestro ideogeologico perché vengano poste in essere nell'immediato e prima possibile tutte le necessarie opere a tutela della pubblica incolumità e della salute dei cittadini. In quel palazzo insistono 50 appartamenti, quindi è un complesso abbastanza grosso. Noi abbiamo dato l'ordine di sgombro semplicemente per la palazzina proprio addosso alla quale si era precipitata la massa franosa. Per le altre abbiamo dato le misure. Già io veramente ai primi di marzo avevo messo ordinanza per limitare la possibilità di accesso in questa zona perché fra il palazzo e la montagna, diciamo così, questo promontorio, ci sono soltanto 5 metri di distanza. Quindi anche lì ci siamo trovati di fronte ad un'emergenza nell'emergenza perché c'è questo muretto basso e contenimento. Ora non so se fossero state necessarie altre opportune cautele, altre prescrizioni all'atto del rilascio della concessione. Ora naturalmente tutto questo fascicolo verrà sicuramente attenzionato e la procedura ha dato luogo alla costruzione così in prossimità del promontorio Frano Monzo. Un'emergenza che continua. Ricordiamo che lei la settimana scorsa è stata alla Protezione Civile a Palermo per la vicenda della Galleria Caos. Insomma in quella zona c'è già un'emergenza, ci sono anche dei lavori attualmente in corso. Quindi diciamo le emergenze sono tante, purtroppo il rischio idrogeologico a Portembedo è notevole. In realtà lì era andato il mio assessore ai lavori pubblici che è persona competente, esperta in materia. La verità è che questo costone di via Lincoln si pone in perfetto asse con la zona in cui si verifica il dissesto radiogeologico all'imitrofo alla 640 dopo la Galleria Caos. La natura del tipo di terreno è molto similiare. Così come si sono verificati questi smottamenti sulla 640 altresì tutto quel costone che va verso via Lincoln è interessato più o meno dagli stessi fenomeni. È chiaro che ci debbano essere degli interventi forti. Si è fatto un primo approssimativo conto dell'intervento che serve nell'immediato per la semplice messa in sicurezza occorrono circa 300 mila euro. Quindi bisogna vedere anche lì come fare anche perché in realtà noi abbiamo appurato che il costone è privato. Quindi è una bella gatta che pelare.